Una splendida esperienza, conoscevo alcuni professori d'orchestra anche perché avevamo studiato al conservatorio di Bari insieme e li ho ritrovati dopo vent'anni di assenza qua in Puglia, quindi è stato molto bello collaborare con loro, mi è piaciuto tantissimo. Un momento di alto spessore culturale pertanto, siamo orgogliosi di poter offrire alla fruizione del pubblico questo spettacolo. L'orchestra Magna Grecia ancora una volta si dimostra una eccellenza per il territorio tarantino, una eccellenza nazionale. Tutte le iniziative svolte dall'orchestra Magna Grecia mantengono lo stesso livello di qualità, lo stesso livello di altezza culturale e noi vogliamo tutelare queste preziosità, queste eccellenze che abbiamo a Taranto. La Ico Magna Grecia è veramente un orgoglio per la nostra città.